Musica Abbiamo preparato questo lievitato con lievitazione naturale con la marina sgocciolata e schiacciata, noci e pistacchi. Musica Adesso andiamo a creare un rettangolo con questa pasta. Musica Quindi mettiamo per tre parti della superficie il burro, poi andiamo a mettere amarene abbondanti. Abbiamo una marina fabbri preggiatissima, prodotto conosciuto in tutto il mondo. Musica Arricchiamo bene perché ovviamente questo impasto trippica il volume. Andiamo a mettere della frutta secca, delle noci in questo caso. Diamo una piega a tre semplice. Musica Passiamo delle file, poi possiamo indracciare, farlo tondo, dagli varie forme. Musica Fatta a ciambella, mettiamo due strisce, arrotoliamo a treccia e chiudiamo tonda. Adesso lievitiamo due ore, dopodiché si va in cottura a 170 gradi, circa mezz'ora. Musica Questo è il risultato dopo due ore di lievitazione, quindi abbiamo un impasto soffice e come vedete la marina risulta dappertutto nell'impasto e per questo motivo che la fabbrica ha creato questo prodotto per i prodotti lievitabili. Musica 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 Musica